Buonasera ragazzi, bentornati su Caffè Ristretto Podcast, bentornati ad Agorad del Calcio, una puntata che definire evento forse è definire poco. Siamo in una sorta di Avengers Endgame del nostro podcast perché siamo partiti quasi un anno fa con una persona che è qui vicino a me. E oggi arriviamo, dopo un anno quasi preciso, di nuovo con questa persona. Ma prima spieghiamo perché Saloon. Il Saloon era il luogo dove si intrattenevano gli intellettuali, gli illuministi, giusto, mi correggete, oggi non sono molto lucido con la storia soprattutto. Sto pure studiando storie contemporanee, però vabbè. Ho l'esame tra due settimane e ancora un aperto libro. Non diciamolo al professore. Ok. Ospite con noi, Riccardo Trevisani. Buongiorno a tutti. Ma non solo perché ci è venuto a trovare anche Edoardo di Tecnica di Base. Salve a tutti ragazzi, grazie mille. Brian di We Got You Podcast. Ciao ragazzi. Ci abbiamo tutta la creme della creme del Caffè Ristretto Podcast. E con noi da sotto, Walter Zabbatini. Da sotto sei bellito intendi dire perché... Quasi. Non c'ho né l'uso né la parola né l'immagine. Eh, stai perdendo anche un po' di voce, sento. Questa è la domanda che fa sempre sciogliere il ghiaccio, no? Comincerei con questa domanda perché secondo me è quella più importante. La faccio sempre ad ogni puntata, ad ogni intervista, ad ogni personaggio amante del calcio come noi. La domanda è la seguente, ovvero cos'è che vi ha fatto innamorare del pallone? Cos'è che vi ha fatto innamorare di questo meraviglioso sport? Magari il guardare le partite con il nonno, col papà, il giocare a pallone con gli amici. Una squadra, una partita che avete visto così. Sono due cose. Io ho una famiglia di pallonari incredibili. Mi hanno sempre portato allo stadio fin da piccolo. E quindi vedevo le partite allo stadio. Ed è una cosa che già quando sei piccolo ti senti dentro un'atmosfera. Ma sotto ero al mare, a Marina di San Nicola, dove andavo da piccolo e c'era questo campo che si chiamava il Pratone. E questo Pratone c'aveva due porte. E in queste due porte si giocava tutto il giorno. Cioè io andavo lì, anziché andare in piscina o al mare, andavo al Pratone a cinque anni. E giocavo a pallone tipo dalle undici fino alla sera. La sera alle otto, sudati, marci, tutti a mare, bagno. E poi via cena. Forse cinque anni è un po' poco, ma da venti, dagli otto in avanti è sempre stato così. E quindi calcio H24. E poi ho continuato. Anziché mettermi a giocarlo, ho deciso di raccontarlo perché evidentemente non ero buono a giocare. Comunque non ero buona a sufficienza per giocare ad alto livello. O troppo forte per competitor? Eh sì, sì. Potrebbe essere. Beh, Borghi ci ha detto che se non si fosse rotto il ginocchio sarebbe stato titolare nell'Italia del 2006. Anziché non ha detto nel Boca. Ah, potrebbe essere. No, preferisci il Rivel Plate, Stefano. Anche il Pegnero, il Pegnero lo apprezzo. Scusa, ma tu dove ti collochi nelle varie squadre? Nel caso in cui non ti fossi chiaramente rotto il ginocchio? Ah, c'è tra avanti, c'è tra avanti. Solo che c'è questo problema tecnico, non sopporto il contatto fisico. Se avessi trovato il Samuel della situazione, che mi dava una stecca al terzo minuto per non farmi avere voglia di giocare, ci sarebbe riuscito perfettamente. È stata una volta che ho giocato una partita di calcio a 5 quando giocavo in C2, quindi non mi ricordo, e questo tizio, diciamo non esattamente edificante da guardare, eravamo in trasferta alla rustica e mi prende, io ero c'entra avanti, lui difensore centrale, e mi seguiva per tutto il campo. La prima palla che è arrivata, ho provato a mettere il sedere in fuori di Pocassano per non farla arrivare alle gambe, con il fatto che ero molto alto, tenendo le gambe lontane, palla sotto la suola, il sedere in fuori. E' riuscito comunque a prendermi le gambe, quindi ho girato tutta la partita, come qualche attaccante fa ancora oggi, in Serie A, per evitare proprio di avere una qualsiasi palla da ricevere spalle alla porta. E lì ho capito che non era proprio cosa. Attacca di scarpino al chiodo. C'entra avanti, io non voglio colpire di testa perché mi faceva male il pallone, e non voglio piegarci, capisci che l'attaccante non posso fare il portiere, forse, e comunque il portiere ha preso delle botte tipo check, per dire che non è che è divertente, quindi sono troppo pigro per giocare, e quindi è meglio commentare. Però l'amore è rimasto. Scusami, io ti avrei fatto una domanda molto filosofica, del tipo, qual è stato il momento in cui ti sei accorto che commentare una partita aveva lo stesso valore di giocarla? Ma anche di più, perché quando la giochi, magari l'attaccante in una partita tocca 40, 30, 50 palloni, durante la partita con me in tutti i 90 minuti, quindi sei sempre dentro. Tanto è vero che dopo che ho smesso di giocare ho cominciato a fare l'arbitro. Ah sì? Ho fatto anche l'arbitro, perché io in qualche modo dentro quel campo ci dovevo stare. Ho fatto l'arbitro, dopodiché ho smesso, anche lì con delle ragioni folli che non starò più a spiegare, però ho fatto due anni e mi ero molto molto divertito. Tanto ero stato promosso agli uniones provinciali, dai giovanissimi, poi allievi, poi agli uniones, e poi ho detto, scusate, io non voglio più. L'ho detto solo a un mio amico con cui avevo cominciato, ma non l'ho avvisato Laia, quindi Laia mi ha radiato. Perché giustamente non è che uno può smettere senza avvisare, e quindi mi hanno radiato. Che poi le botte le prende anche l'arbitro a quei livelli. Purtroppo sì, questa è una cosa diciamo più spiacevole, nel senso che uno può anche sbagliare, succede che gli arbitri sbaglino anche a grande livello, ma non ci deve essere scontro fisico. Una delle ultime partite di arbitraria sono uscito con i carabinieri, perché c'era uno che mi urlava addosso e poteva scavalcare. Non riusciva a scavalcare, e io mentre arbitravo mi accorsi che il cancelletto sotto era aperto, senza lucchetto, quindi se fosse stato più sveglio, anziché urlarmi addosso, aprivo il cancelletto e entrava sereno. Ma per fortuna non è successo, quindi non poteva poterlo raccontare. Meno male, meno male. Il momento in cui mi sono innamorato del calcio è il momento in cui ho visto un pallone. Neanche toccato, averlo visto, aver visto un pallone che rimbalzava, è stata un'affolgorazione per me. Questa cosa rotonda che rimbalza. Eh sì, che semplice. No, poi il pallone, cioè sembra una cosa paradossale, quella che ha detto il direttore, ma la palla non è che va su una linea, sulle rotaie e è inquadrata. Ovviamente rimbalza in maniera particolare, come si dice in questi casi, la palla è rotonda, quindi può veramente succedere che palo, palo, e il pallone non entra dentro per mille giri di effetti. Oppure succede come nella Liga che arriva al Barcellona, la palla è entrata in mezzo metro, però non c'hanno la goal line technology, ma hanno speso un miliardo e otto per rifare lo stadio. Quindi è tutto strano nel calcio. È tutto strano nel calcio. E quindi affascina, specialmente ha una mente geniale e folle come quella del signore collegato da sotto. Signor collegato da sotto, le senti queste parole? Sì, lo sentite. Apprezzabile il commento del cioccolone. Cioccolone. È una variante del giungiolone. Molto bene. Cioccolone, ok, bene. E a questo punto faccio una domanda a tutti e due. Qual è stata la vostra più grande sfida a livello lavorativo? Avrete tutti chiaro in mente che il calcio è una malattia grave, non è un'influenza, è una malattia gravissima che ti prende da piccolo e non ti abbandona più. E della malattia c'è tutte le caratteristiche. ti sveglia di notte, ti fa venire la tosse, ti fa venire idee strane. Il calcio veramente è sofferenza quando non tragedia, come ho ampiamente raccontato in una cosa che ho scritto. il calcio è una tragedia. È una tragedia non solo per chi perde, anche per chi vince. È una tragedia meravigliosa della quale non si può far di meno. Diciamo che della tragedia di quando vinci mi viene in mente il Napoli, che ha fatto una stagione incredibile dopo anni in seguire lo scudetto, ma la gestione dello scudetto è stata tragicomica, per usare le parole di Walter, e ampliarle. E poi alla fine quest'anno è chiaro che lo scudetto rimane, quella gioia rimane, ma fare 40 punti in meno l'anno dopo è un'operazione veramente paragonabile a un suicidio sportivo di massa, anche se poi la massa... è camminata da presidente perché è l'unico poi che è rimasto mentre Giuntoli e Spalletti sono andati via. Forse non è neanche così casuale che questa cosa sia stata successiva all'addio di Spalletti e Giuntoli. Sì, anche perché tre allenatori nello stesso anno media punti, non da retrocessione chiaramente è un iperbole, però siamo lì, insomma sono tutti sintomi. Esattamente un anno fa vinceva lo scudetto. Di fatto sono due imprese, no? Cioè il fatto di toccare il picco con Luciano che chiaramente è stato protagonista insieme ai calciatori e per poi toccare il fondo in maniera incredibile, in così poco tempo. Sembra passato veramente dieci anni. tra una squadra e l'altro. Siamo due squadre diversi. Già a ottobre non sembravano quattro mesi ma quattro anni. Sì, sì, sì. Incredibile. C'è una differenza abissale. Io la mia, di dovresti dire, è sempre legata a Sky. La prima quando ci sono arrivato perché ho comunque lasciato Roma, la mia città, la mia famiglia, tutto, ho preso, ho mollato e sono andato a vivere a Milano per sognare Sky. E poi quando sono andato via da Sky perché comunque la scelta di lasciare per trovarsi in una realtà completamente nuova con una formula contrattuale nuova con un ambiente nuovo dopo 17 anni da un'altra parte è stata una scelta complicata che rivarei altre mille volte. Quindi come sfida personale l'ingresso a Sky? L'ingresso a Sky è lasciare Roma e la mia vita di 23 anni ma poi dopo a 41 rifare questa scelta con comunque delle responsabilità maggiori non più la stessa gioventù e tutto per andare a Medici è stata comunque un'altra scelta abbastanza direi coraggiosa però ti ripeto che rifarei perché sto bene è stato anche un momento di grande griglia il cambiamento è crescita e questa cosa è fondamentale per fare vari passaggi nella vita. Chiaro, chiaro. Poi comunque ora hai anche tanto da fare tra cronache di spogliatoio tra Mediaset radio quindi c'è anche l'opportunità di... Caffè e podcast Che scherzi C'hai anche molto di più da raccontare diciamo Sì ma perché il calcio di oggi ti porta con un'attenzione a 360 gradi 24 ore al giorno a poter quasi a dover parlare di tutto cioè succede qualsiasi cosa il martedì arriva il giudice sportivo e un giorno c'è un recupero il posticipo del lunedì poi c'è l'anticipo del venerdì in mezzo c'hanno le coppe tra l'altro manderei un messaggio alla UEFA e alla FIFA accorciateli i campionati in qualche maniera perché quello che sta succedendo con Udinese e Roma Atalanta e Fiorentina i recuperi ogni anno ci sono da recuperare delle partite per le logiche del maltempo situazioni drammatiche come quella di Gio Barone o di Indica per quanto differenti cioè succedono delle cose e se non hai mai tempo per rinviare io non credo che sia andata così male al Paris Saint Germain al Marsiglia e anche a Lille che poi è uscito lo stesso ma il fatto di non aver avuto una giornata di campionato da poter saltare per giocare le coppe poi guardiamo il risultato e penso per la prima volta una francese semifinalista di Europa League una francese semifinalista di Champions League è casuale non lo so però la riduzione a 18 squadre mi sa che male non gli ha fatto anche perché poi la tendenza europea con la prossima edizione della Champions League diciamo che non le toglie le partite e poi c'è il Mondiale per il club e poi c'è il Mondiale per il club ma quindi l'anno prossimo se succede una tragedia quando le recuperi le partite tra l'altro se vogliamo aggiungere ulteriore polemica al Mondiale per il club molto simile alla Superlega al format della Superlega stessa cosa la Champions League quindi ma insomma ce ne sono di cose che succedono che lasciano un po' sarebbe da farci un altro episodio a parte nella prossima puntata nella prossima puntata l'inchiesta l'inchiesta contro la UEFA così magari ci arrestano pure vedete se vuoi andare sì io avevo una domanda per il direttore a cui se vuole chiaramente si può accodare anche Riccardo perché che poi fa diciamo da seguito a quelle che sono state le sue le sue prime due risposte perché c'è un evento in particolare che secondo me è vissuto dal direttore con dispiacere che è quella della sua diciamo dalla sua separazione dalla Roma della sua separazione dalla Roma il 7 ottobre 2016 in cui il direttore rescinde il suo contratto e in quella conferenza stampa che per me diciamo è stato un po' un concerto il direttore Walter Sabatini è stato diciamo protagonista ha dichiarato una frase che secondo me è una delle frasi più belle mai pronunciate diciamo da un uomo di sport da un uomo poi di calcio in questo caso c'è stata una domanda che insomma gli chiedeva il perché diciamo di questa separazione il direttore ha risposto che c'era sostanzialmente diciamo con la precedente proprietà della Roma non questa attuale con quella precedente una discrepanza nel criterio di selezione dei giocatori e il direttore ha detto io diciamo loro sono amanti delle statistiche stanno cercando una specie di algoritmo vincente sulla base dei dati io in realtà vivo ancora dentro il mio estinto la mia immaginazione e poi il direttore dice una cosa che per me è filosofia applicata al calcio lui dice non vede il pallone come un oggetto sferoidale cioè fatto con un certo materiale con le cusciture che saltano pensando a quanti rimbalzi fare il pallone quanti impatti balistici riuscirà ad ottenere prima di finire il suo ciclo di vita lui dice io dentro al pallone ci vedo il mio universo intero per me la palla è qualcosa io voglio deviare le traiettorie quando sono in tribuna sono dentro il pallone fuori dal pallone sono con i calciatori gli vorrei far piegare il piede quando stoppa nel pallone e il direttore conclude dice io vivo il mio calcio cioè un calcio immaginifico allora la domanda che faccio a direttore Walter Sabatini e che faccio anche a Trevisani a Riccardo è qual è stato direttore il calciatore che è riuscito ad abitare questo suo universo immaginifico che magari ha soddisfatto anche le sue richieste secondo me si è vero rispetto alla sua sensibilità calcistica ma che in questo mondo che questo mondo lo ha abitato con più sintonia con la sua armonia anche soddisfando magari delle richieste estetiche qual è stato il calciatore che le ha dato più soddisfazione vedendolo giocare ma sono molti ma non ti posso rispondere perché mancherei di rispetto a tanti tanti giocatori ovviamente qualcuno in particolare c'è però preferisco tenermelo per me va benissimo allora provo a rispondere io io ce ne ho avuti tre un LTC il primo probabilmente di quando ero più piccolo poi Ronaldinho e poi Messi e poi Messi che ha sublimato tutta una serie di cose di gioie perché in quel momento commentavo la Liga lo vedevo crescere quindi le nostre tra virgolette carriere si incrociavano e ora c'è un altro che mi manda al manicomio mi sopra sempre nel Barcellona ed è la Mini Amal che mi sembra veramente uno venuto da un altro emisfero da un'altra dall'attitudine non so che ne pensa il direttore Samal è un giocatore neanche descrivibile non si può descrivere che ha delle qualità intrinseche che sono veramente non codificabili è difficile vedere uno di 16 anni entrare nel Barcellona e nella Spagna e giocare con l'esterno tutto il tempo e puntare 30 volte in una partita qualcuno ed essere sempre 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 sul pezzo cioè di solito il giocatore di 16 anni fa una giocata e si sconnette per mezz'ora invece lui è sempre dentro la partita io ti ho sentito dire una cosa Riccardo tempo fa in altri liti che tutti conosciamo che Yamal ha 16 anni cioè secondo te Yamal ha 16 anni è più forte di Leomessi detto poi che Leomessi io non l'ho visto non l'ho visto a 16 anni chiaramente l'ho visto un po' più tardi tu credi veramente possa ripercorre io non credo possa arrivare al picco diciamo del genio di uno però in quanto a numeri probabilmente ti aggiungo questa cosa Messi oltre al genio Messi è una macchina cioè nessuno lo ha mai notato perché il paragone era con Ronaldo e quindi essendo Ronaldo l'uomo macchina per definizione nessuno ha dato mai a Messi il merito di essere una specie di robot ma Messi ha avuto anche nella conduzione della sua famiglia nella conduzione della sua vita la capacità di essere veramente un serial killer uno da cioè Maradona ha fatto 8-10 anni a quel livello Messi ne ha fatti 20 quasi ed è quasi il doppio Rodaldini è stato un genio io l'ho amato come forse nessun calciatore ha fatto grandissimo livello 2001-2006-2007 e poi è comunque calato il suo prime è durato 3 anni 4 anni Messi ha fatto quasi 20 anni straordinari però io me lo ricordo quando è sordito con lo Shakhtar 0-0 in Champions League e sono passati quasi 20 anni non era così non mi rubò l'occhio come me l'ha rubato Yamal dalla prima volta che l'ho visto ed era più grande di Yamal di un anno e mezzo quindi penso se questo ha 16 anni e mezzo quindi un anno e mezzo prima di Messi fa delle cose così speciali che prende la standing ovation del Bernabeu a Spagna-Brasile del Bernabeu essendo un 16enne e mezzo del Barcellona questo che combina quando cresce magari si perde magari sbaglia procuratore moglie situazioni squadra salta un ginocchio non lo possiamo sapere io dico che 16 anni e mezzo contro 16 anni e mezzo prendo Yamal sulla carriera al buio prendo ancora Messi ma quello che ho visto fare da Yamal a 16 anni e mezzo non l'ho mai visto fare nessuno in vita mia nella partita a Spagna-Brasile c'era un altro giovanotto ce n'erano un paio nella Sele Sao è entrato Hendrick è entrato Hendrick è sortito nel Brasile a Wembley è fatto col dopo 9 minuti poi è sortito a Bernabeu dove giocherà a Corriere Madrid è fatto col dopo 6 minuti parliamo di uno che c'ha proprio uno stellone addosso è proprio benedetto da Dio secondo me Hendrick è benedetto da Dio e rischia di essere lui a livello numerico uno che fa saltare il banco c'è solo la cosa strana è che per essere un attaccante è piccolino non è più gli attaccanti che vengono fuori adesso non è Holland dal punto di vista fisico non è Lewandowski non è neanche Benzema che era più piccolo ma comunque alto Hendrick è Romario dal punto di vista della struttura fisica quindi è uno diverso in un calcio che va verso se non sei 1,90 non giocare a calcio Hendrick può essere veramente un clamoroso crack però io quello che provo per Yamal non provo per nessuno sarà una bella sfida proprio per nessuna speriamo che ce la possano regalare per i prossimi 15 anni come hanno fatto due altri signori esatto comunque hai nominato Romario e non so perché mi è venuto in mente Miccoli vabbè probabilmente perché nel tempo in cui non ti vediamo tu stai pensando agli attaccanti bassi e hai pensato a Romario e ho pensato a Miccoli beh no magari nel tempo in cui non ti vediamo fai bevi strane è Romario del Salento io ero un grande fan di Miccoli ma proprio un grande fan ma nella fase con Romario forse ci metto tre calciatori forse cinque non puoi mettere il Miccoli della stagione 9-10 con la fascia al braccio hai delle influenze per rucine che non sto scherzando è sempre il signore di sotto che ti influenza è il signore di sotto che potrebbe essere devo fare una domanda chiara cioè il calcio una partita di calcio è di per sé un racconto allora lui le racconta le partite e mi chiedo se non è mai finita una partita e dopo la partita si è interrogato su omissioni distrazioni se può averci avuto nel racconto assolutamente se mai rammaricato di qualcosa assolutamente assolutamente molte volte è capitato di andare a fare le partite preparando cento cose di cui ne ho dette sei e me ne sono rimaste in canna a 94 e tantissime volte ero voluto dire qualcosina in più dimmi il rammarico più grande che ci hai avuto guarda è capitato a volte che non ti sei accorto di una giocata straordinaria no e magari è sorvolato per quella c'ho occhio per fortuna mi sono magari delle volte perché avevo 13 volte in 1440 delle cronache di sbagliare il marcatore e me le sono segnati tutti perché comunque sull'errore poi come dici tu la tragedia il dolore del calcio uno si è riportato a volte io vedo per esempio la spalla tecnica non tanto cronista che omette di sottolineare la giocata superlativa e la giocata superlativa va raccontata sempre o va rimarcata o va sottolineata sempre sono d'accordo mentre invece io mi rendo conto che o per distrazione o per beata ignoranza a volte viene trascurato questo aspetto che invece è importantissimo sono d'accordo delle giocate di Fino ci campo ieri Castriciano si aveva fatto un tacco volante a un certo punto nei primissimi minuti di Lazio Juve che mi aveva fatto impazzire però ecco sull'errore sulla distrazione purtroppo tu parli un'ora e mezza durante la partita e ti può succedere di dire una parola per un'altra di andare sopra pensiero e capita purtroppo ieri c'è un punto a fischio finale faccio il riassunto finisce 2-1 per la Lazio ma 3-2 per la Juve e in semifinale ci va e in finale ci va la Lazio ho detto invece della Lazio poi mi sono corretto però lì per lì capita di sbagliare perché tu mentre parli hai il coordinatore i bordocampisti la spalla vicino fai 5 cose insieme e nel frattempo parli per un'ora e mezza senza sapere quello che dirai non è proprio un mestiere facilissimo e quindi ogni tanto un po' di errore può succedere però dicevo il rimpianto non è stato un rimpianto una cosa che mi ha fatto cambiare un po' modo di preparare le partite è stata che prima del classico 2006-2007 quello dopo i mondiali vinti dall'Italia Barcellona-Real 0-1 Giulio Battista la facevo con Lippi e siccome Lippi non aveva granché i tempi televisivi perché non aveva mai fatto telecronache tendeva ad andare lungo e quindi io di tutte le 100 cose che avevo preparato veramente ne ho dette 7 e quindi ho detto ma devo trovare un modo più valido più utile di preparare le informazioni perché se io preparo le informazioni e poi non le dico non serve a niente che non le abbia preparate e quindi poi ho cambiato un po' stile di preparazione di partita dopo quel classico 2007-2007 2007-2007 l'evoluzione della specie si tratta di una cosa darwiniana è l'evoluzione della specie è vero tutto questo lo fa l'esperienza penso anche nel lavoro del direttore o nel lavoro che faranno i ragazzi tutto fa esperienza e nel tempo si cambia e come diceva a tavola prima i gusti cambiano quello sempre non a me perché io il verde ancora non lo mangio comunque fidati che a un certo punto lo chiederai tu faccio sto pronostico vedremo vedremo scusate invece io volevo fare una domanda sia Riccardo che al direttore quanto secondo voi oggi incide la figura dell'allenatore perché io sono cresciuto con sempre persone non è bella sta risata che si incide un 30% invece volevo sapere voi cosa ne pensate riguardo penso che debba rispondere chi ha maneggiato una sessantina di allenatori in carriera e poi rispondo io Walter 80% non è poco quindi la teoria di Ranocchia anche Ranocchia Pressing l'altro giorno disse questo uguale uguale 80% 80 è tanto direttore però 80 è tanto ma è un numero reale guardate le spallette a Napoli e datemi la percentuale più bassa no no hai ragione io ho sviluppato un'idea cioè nel senso che nel male può arrivare anche all'80% nel bene quando le cose vanno proprio bene ci deve essere però dentro una struttura cioè Tiago Motta sta facendo i miracoli a Bologna ma senza i giocatori che hanno preso prima era difficile arrivare a questo l'Inter funziona oggi perché ha costruito nel tempo una struttura che dove Inzaghi sa parlare ai giocatori li fa giocare bene si inventa Di Marco si inventa Cialano come regista ma sono arrivati dei giocatori funzionali a sostituire quelli che sono partiti cioè l'allenatore da solo secondo me non incide se fai danni assolutamente può incidere anche per il 100% perché tu puoi avere una squadra buona e non funziona abbiamo avuto un caso in questa città in questa città si è visto con Mourinho insomma la squadra che veniva che era più scarsa del Sassuolo che sta retrocedendo in realtà in semifinale di Europa League sta lottando per andare in Champions perché dice sta cosa? è perché vuol dire che l'allenatore precedente faceva i danni quindi i danni possono essere enormi ma i giocatori non erano così scarsi quindi i danni su tutti l'allenatore i meriti possono essere più condivisi di sicuro chi dice l'allenatore con il 10% in campo vanno i giocatori il calcio è facile di questo sport non ha capito niente scusa Pellegrini è un traditore a me sembra chiaro questo è un racconto che viene fatto parzialmente lobotomizzatamente spesso in questa città ma un po' dappertutto per giustificare i fallimenti degli allenatori che stanno particolarmente simpatici si trovano delle giustificazioni no allora visto che avete parlato adesso comunque anche per esempio appunto della Roma che è andata in semifinale e comunque sono anni che sta andando molto avanti nelle competizioni come anche altre squadre europee perché secondo te allora in Italia spesso si sente parlare comunque di partite effettivamente brutte da vedere o comunque si parla di calcio italiano come un calcio magari arretrato rispetto a quello inglese o quello comunque di altri campionati maggiori nonostante basta vedere due settimane fa che era il 3 a 0 ad Anfield e l'Atalanta direttore comincio io perché sono lungo e ti tiro in mezzo in questa risposta allora il calcio italiano è più brutto da vedere perché siamo meno ritmati meno propensi alla vittoria e più contenti di pareggiare di quanto non lo sia il mondo cioè noi sul punto ci costruiamo una cosa positiva il mondo il punto lo vedo come una sconfitta sono cambiati i tre punti da 30 anni ma la mentalità è dura a cambiare però gli allenatori italiani sono i più preparati in assoluto tatticamente sono proprio più bravi degli altri più svegli più paraculi fammi usare tutti i termini che posso tra il positivo e il negativo ma per dire una cosa positiva l'allenatore italiano è in gambissima è più scaltro è più rapido è più capace di capire adattarsi alle situazioni è paraculo se non è la parola più giusta che si possa usare però coinvolgo il direttore in questo tu mi hai detto la Roma fa un'altra semifinale le semifinali europee della Roma che poi sono state anche delle finali partono da Sabatini partono da una Roma costruita negli anni con una quantità di giocatori forti che ha portato la Roma prima di Luis Enrique che era una squadra molto debole dal punto di vista tecnico con molto poco valore economico a diventare una squadra che faceva seconda terza seconda terza seconda terza tutti gli anni la Roma ha preso uno status importante ha preso giocatori importanti e da lì ha cominciato ad andare poi bene in Europa è stato un percorso lunghissimo quelli che dicono le società devono arrivare e vincere o gli alleatori devono arrivare e vincere non è vero nel calcio ci vuole lavoro un lavoro lungo ci vuole tempo a costruire quella società e per gli allenatori e quindi è un discorso di arrivo faccio vinco quelli che lo dicono non hanno capito niente del calcio la Roma ha cominciato con un'altra proprietà altri dirigenti a essere quello che poi è diventata nel tempo perché dieci anni fa non era questa squadra cinque anni fa la squadra cambiano i giocatori ma non cambia l'impostazione che tu hai avuto il livello che tu hai avuto cioè la Roma a un certo punto ha maneggiato giocatori di un livello fuori categoria cioè non sapevi più cos'era la Roma cioè Lamela Martignos Alisson Salah Dzeko Nainggolan Strotman Pjanic io veramente è stato un livello talmente alto che da quel livello da quella eccessione da quella costruzione ne è derivato tutto quello che è successo successo dopo perché tu poi sei fia di Champions e ci arrivi perché c'è Dzeko perché questa gente che è arrivata prima non che è arrivata l'anno in cui sei arrivato il segnale di Champions League sbaglio? no è stato un duro lavoro illuminato anche opacizzato dalle sigarette un duro lavoro mai illuminato ti attaccano qua direttore lo sento opacizzato dalle sigarette opacizzato in senso buono nel senso se entravi in ufficio non c'era la luce del sole c'era una nube di fumo incredibile scusa poi Nainggolan lo porti grazie alle sigarette perché restavi sveglio per le sigarette quindi possiamo raccontare retroscena di quando ho saputo che eri in Olanda a prendere Strotman mi sono presentato a Linate e quando lui è uscito dagli arrivi io gli ho telefonato e lui guardava il telefono e non rispondeva al che gli ho urlato oh sono io oh rispondo perché avevo saputo tramite un colpo di fortuna incredibile che lui era su un volo della KLM e quindi ho detto allora ce ne so tre che partono da Amsterdam per Milano sapevo che veniva a Milano a quello delle undici di mattina il telefono squillava a quello delle quindici non squillava e quindi evidentemente era in aereo e l'ho pizzicato con Strotman al guinzaglio scusa come rispondi come controbatti è come controbatti no in nessun modo rispondo con un evidente senso di fastidio perché l'essere tanato è una cosa che ho odiato sempre dentro tutta la vita come un nascondino che è fin da piccolo è una cosa che non si toglie beh a questo punto però mi voglio ricollegare allora tu prima papà non hai voluto rispondere alla domanda di Edoardo ma ora ti ci faccio rispondere forzatamente con un gioco che abbiamo preparato a cui puoi rispondere anche tu allora io metterò a confronto diciamo i tuoi migliori acquisti barra scoperte perché alcuni sono del passato alcuni sono del presente alcuni sono più acquisti che scoperte e vediamo chi preferisci partendo da puoi rispondere anche tu pastore Ilicic non gioca saldietto si ritirava pur io ma non pensavo dicessi Ilicic tu no io dico Ilicic pensavo tu stavo detto Ilicic virgola Ilicic era un giocatore fenomenale sempre con una piccola macchia legata alla sua al suo carattere molto molto solitario molto involuto da questo punto di vista poi dopo la storia ha anche raccontato che la vita gli avrebbe teso un'imboscata perché è finito nella depressione è finito nella depressione però ero un calciatore incredibile la storia è stata la gioia dei miei occhi cioè veder giocare il pastore per me era un ristoro un ristoro dell'anima proprio perché inventava calcio ogni pallone che giocava inventava calcio meno male che hai specificato con la virgola dopo Ilicic perché se no pensavo di non aver capito niente perché prima quando tu dicevi il pallone è di più di quella cosa sferica no è quello che la dichiarazione di addio alla Roma io mentre sentivo queste parole pensavo a pastore ma pure io infatti per quello l'ho fatto quindi quando hai detto Ilicic prima di dire virgola ho detto oddio che sta succedendo io prendo io prendo Ilicic io prendo Ilicic perché più continuità per la continuità per la capacità che ha avuto alla fine di incidere in quell'Atalanta perché quell'Atalanta è stata una roba io ero a Dortmund quando hanno perso 3-2 con doppietta di Ilicic Ilicic è stato un paio di anni anche lui torniamo al discorso è stato un killer per 2-3 anni è stata una cosa che non era non era umana non era umana non essendo nato per essere quel crack mentre pastore fin da quando l'hai preso a Palermo già si sapeva che era quel crack Ilicic ce lo è diventato in corsa perché comunque uno che arriva dal Maribor per mille lire non pensi mai che possa diventare uno che va a Valencia che fa 4 gol in una partita in Champions League agli ottavi cioè è stata una roba fuori dal mondo per 3 anni e quindi mi ha fatto proprio impazzire poi era un talento mamma mia che visione di calcio poi certo pure pastore obiettivamente diciamo che quando toccava la palla era pelle d'oca però è una domanda bravo Ilicic grazie ora per faccio altre comunque forse il calcio l'ha punito per quello a Ilicic perché era troppo perché era troppo forse ha superato le colonne d'Ercole potrebbe tarsi Ederson Pjanic sono completamente diversi non saremo mai d'accordo io Walter no no non rispondo a questa domanda dai dai invece si sei obbligato sei obbligato perché lo voglio sapere io come figlio non ci penso neanche ti ha fregato ti ha fregato io come apprendista mi rispondi dai ragazzi Pjanic era il calcio da un punto di vista balistico Pjanic è uno dei giocatori più forti che ho mai visto Ederson appartiene alla classe operaia però è una classe operaia che va in paradiso operaia no classe operaia di livello però è classe operaia l'altro è un aristocratico diciamo che Ederson è tipo Emerson non solo per il nome mentre Pjanic è più trequartista prestato a fare la mezzala però dipende poi sempre da che ti serve in una squadra però sono sicuro che Ederson serve a tutte le squadre Pjanic potrebbe non servire a qualche squadra questo è vero se non avrebbe giocato tante partite con Gasperini esatto ma secondo me è diventato tipo Deron è quello che non può uscire mai della squadra cioè si parte da Ederson che va in panchina Coppiners e Ederson gioca perché è proprio è come giocare con Deron e Ederson dalla Tanta gioca praticamente 12 contro 11 questo gioco è un bel vantaggio mi so un bel vantaggio allora questa coppia è particolare perché sono due che potrebbero giocare titolare in ogni squadra proprio per questo principio e uno molti non lo sanno che è stata una scoperta di Darth Vader di sotto se così vogliamo definirla Gattuso Nainggolan all'aldivario è ampio però volevo anche sapere a livello affettivo diciamo così ma Gattuso l'ho preso che era un bambino di 13 anni vale comunque dopo la storia voglio dire recente ha raccontato di un Nainggolan capace di qualsiasi proiezza dentro un campo di calcio Gattuso era un giocatore per una squadra infatti vinceva con la squadra però sul piano individuale le cose che ho visto fare da Nainggolan è difficile che qualcuno me le abbia fatte rivedere i tagli scivolati di Nainggolan sono un bollettino di guerra e sono anche copiati direttore adesso vedo la scivolata col tacco dietro alla Nainggolan la fanno altri giocatori l'ho vista fare a Ederson l'ho vista fare a Locatelli la vedo fare spessissimo proprio una giocata che ha inventato il brevetto raggio a Nainggolan la cosa bellissima di questa domanda che tu non potevi sapere Santiago ma te la dico io è che io che ho sempre amato un calcio diciamo tecnico propositivo e offensivo dicevo ma perché le squadre forti non fanno tipo un G14 si mettono d'accordo e decidono il livello minimo di calcio che si può avere cioè le pippe non devono giocare capito? e quindi fino al 2010 Gattuso era il mio standard cioè sotto a Gattuso non dovresti essere convocato in una spara di calcio da Gattuso in avanti ho cambiato con Nainggolan quindi perché si è anche elevato il livello è anche elevato l'erotecnico del calcio è cambiato calcio più evoluto calcio più di qualità un calcio più offensivo quindi si è riuscito a mettere in questa domanda senza saperlo che sono stati i miei benchmark del minimo che devi avere per poter giocare a calcio Gattuso diciamo dai miei 10 a 25 anni e e ragia più avanti allora questa invece è un po' più complicata secondo me non rispondi neanche a questa coloro bollicksteiner no no uno immagino l'altro un destro non c'entra lo so ma è a livello diciamo dell'acquisto cioè il tuo quiz il tuo quiz coloro sì dai non c'è storia finalmente possiamo essere tutti d'accordo pure i ragazzi dietro le telecamere cioè sono romanista l'icksteiner è un ottimo è un ottimo esterno coloro c'è i piedi numero 10 un campione anche una personalità strabordante coloro un essere umano fantastico proprio cioè è proprio un grande un grande coloro è un campione l'icksteiner è un ottimo giocatore secondo me sì d'accordo poi scusa posso aggiungere una cosa che sono anche diversi magari Riccardo anche il direttore uno forse ha fatto le migliori cose ricevendo il pallone e l'altro giocandolo per gli altri questa è una bellissima lettura e mi fa pensare anche al fatto che sono diversi coloro per meglio per la tecnica di base esatto non è cosa da poco è una cosa bellissima questi due invece ora giocheranno una semifinale se non sbaglio Marchignos o Rüdiger sbagli giocheranno una finale c'è ragione giocheranno due semifinali e una finale direttore io me lo ricordo quello che ti hanno detto quando hai preso Rüdiger esatto lì incide un fattore emotivo perché ho sopportato tante di quelle infamie su Rüdiger e di quelle offese anche all'interno del club quelle mi mancano però quelle esterne le ricordo bene e Rüdiger a parte il fatto che era infortunato che è una cosa che gli ha un po' sempre condizionato la carriera ma giocatore a parte di personalità debordante forte fisico e intelligente e anche con dei discreti piedi io però per Barchinio se faccio la mia top 11 forse lo metto la mia top 11 di sempre c'è un giocatore che tra colpo di testa velocità qualità letture carattere e tutto insieme capacità di giocare a tre a quattro centrale braccetto addirittura terzino adattato con Spalletti ha fatto il terzino una volta a che partita da Roma faceva un recupero di 60 metri su uno che aveva 40 metri di vantaggio forse su Dennis forse su Dennis forse su Dennis verso la nord esatto me lo ricordo perché lo volevo dire contro l'Atalanta traumatizzato positivo ma traumatizzato è una roba che è tipo un retro shock mi ricordo quella cosa non so se era stato proprio l'esordio una delle primissime si 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 ricordo anche questa cosa questo flash hai mai fatto tanto però Marchini sei Walter si è stata veramente un'operazione come dire leggendaria usiamo le parole giuste leggendaria c'è chi non lo voleva io sei stato un pochino più greve avrei detto sculata un'operazione totalmente sculata eh però ogni tanto serve anche fattore c però se poi se poi per 22 milioni hai preso Pjanic Marchinius e Alisson secondo me tanto culo può essere cioè può essere culo una volta ma se le operazioni sottoppe pure Pjanic pare che l'hai pagato 4.000 lire già comunque giocava in un Lione che era figlio del Lione dei 7 titoli cioè si era ai margini nel Lione l'avevano fatto fuori addirittura gli facevano fare il quarto a sinistra nel 4-4-2 hanno provato a copiare st'operazione con la guerra ma non è andata altrettanto stavo per dire stavo per dire stavo per dire comunque prima che vai via dopo che finiscono loro ti abbiamo fatto un regalo poi dopo lo fanno vedere loro lo devo spiegare il regalo no 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 prima fa il gioco poi è una sorpresa ok ok non te l'aspetterai mai Riccardo vai allora iniziamo con questo gioco abbastanza veloce si parte dai quarti si parte dagli ottavi ottavi però possiamo andare abbastanza rapidi allora sono tutti i gol che te hai commentato abbiamo cercato di prendere i gol alla finale vai di prendere i gol più iconici che sei riuscito ok commentato più belli più emozionanti quindi cominciamo col primo che secondo me è già una bella sfida il primo gol di Rajan Angolan in Inter Roma 16-17 il primo quello che è Salta Cagliardini contro il gol del Pepito Rossi contro la Juve 13-14 madonna già qui sugli ottavi questo è il primo match degli ottavi va bene commentato i partiti del Pepito il gol di Pepito quello su assist di quadrato Pepito sì sì 4-2 va bene va bene continuiamo con l'altro Pepito va ai quarti questa è molto bella perché abbiamo inserito due di un di un maghetto belga forse te lo ricordi che ha giocato al Napoli giro i gol di Mertens contro la Lazio e contro il Torino 17-17-18 Torino Torino contro il Torino sì perché Torino era 10 gol in una settimana era una roba da manicomio ero cascato la mattina ero cascato dalla botta con il ginocchio pensavo di essere venuto la gamba 18 dicembre 2017-18 quello contro il Torino stagione 16-17 allora 18 dicembre 2016 continuiamo pure questo secondo me molto bello David Villa contro il Real stagione 10-11 quindi il 4-0 contro la Manita il 4-0 della Manita il 4-0 della Manita contro il 4-0 contro il Ronaldinho contro il Villa Real 6-7 Ronaldinho è il primo dei 5 gol della mia vita il primo proprio Digno vai qua c'è già una finalista Digno con Mertens e Pepito poi continuiamo torniamo bello mi piace? perfetto vediamo questo qua invece che ne pensi gol di Paul Pogba contro il Napoli 14-15 contro però di nuovo Ronaldinho contro il Siena 2009-10 e dai facciamo Pogba così Ronaldinho non è stato di là ok va bene lo teniamo comunque allora prossimo abbastanza recente Kylian Mbappé contro Real Madrid 2021-22 oppure il gol di secondo me siamo lontani vince Messi vince Messi ok Messi Barcellona 3-0 18-19 contro i Reds un altro abbiamo qui molto bello questo scontro Maurito Icardi contro il Tottenham 18-19 un tiro al volo abbastanza carino contro Latoro Martinez contro il Liverpool dell'anno scorso anche quello non male direi Icardi perché il gol di Lodaro non è servito a niente ok anche se era molto molto bello penultimo un aggancio stratosferico Milik contro la Roma 18-19 oppure e questo è difficile chiaramente gol di Cavani contro il Dnivro andiamo avanti lo rispondiamo lo rispondiamo Cavani è nei 5 poi abbiamo il gol di Vesino contro il Tottenham 18-19 non ci può essere confronto aspetta c'è Ilicic contro Atalanta-Dorto eh sì che cazzo eh che pensavi che fosse sì devo prendere Vesino perché Ilicic è sesto Vesino sicuro? Vesino va va bene continuiamo quindi abbiamo fatto passare il Pepito Rossi e quindi va contro Mertens il gol contro il Torino Pepito Rossi Pepito Rossi che continua poi abbiamo fatto passare Digno che va contro Paul Pogba 14-15 Digno abbiamo fatto passare poi Messi e il gol di Icardi al volo Messi e Vesino e quindi Cavani e Ilicic no Vesino e Vesino ah hai fatto hai fatto passare Vesino quindi per l'ultimo contro Ilicic sì sì ah ok avevo capito avevo capito Ilicic eh che dici sì sì lo stiamo liberando lo stiamo liberando vediamo il gioco guarda che guarda che si è appassionato pure lui ok allora andiamo velocemente abbiamo Digno contro Pepito eh tosta Digno Digno così senza pensare proprio Digno eh allora tosta poi quindi facciamo passare quindi abbiamo Vesino Messi ma quella deviazione è impercettibile cioè ha tolto valore ha tolto valore no ok no non hai tolto niente è una punizione più bella della storia del calcio proprio no sì siamo a Maradona Napoli Juve da due in area perché c'è una deviazione sì sì c'è una deviazione proprio impercettibile la tocca sulla spalla la fa arrivare perfetta all'incrocio dei pali ma c'è della barriera quindi se non sbaglio Messi Vesino deve essere la finale hai fatto male il trappellone e anche perché dopo il finale vabbè vediamo tanto riesce la stessa in finale e vince la finale Messi dai quindi Messi Messi parte lo stesso batte anche Ronaldinho Messi batte lo stesso batte anche Ronaldinho eh beh Leo Messi ganador ha vinto pure questo ha vinto il pallone d'ora ha vinto pure il gol pure il suo caffè ristretto podcast vince Messi esatto allora spiego un attimo l'ultimo è Natale è Natale oggi allora devi o ringraziare o non ringraziare anche Stefano per questo ok per questo regalo che ti stiamo per dare Stefano Borghi Stefano Borghi ok quindi prima mani a cagare noi poi lui ok va bene va bene ok è un qualcosa che noi tu non ci conosciamo ma io so che cosa vuoi nel calcio sono sicuro come rovinare una puntata 12 mesi l'anno di sole vai ma che te non mi hai fatto il regalo si si vai vai il packaging l'ho fatto io il packaging purtroppo è football e non football vabbè però va bene ma qui siamo lontani allora allora Riccardo il più che puoi mandare a cagare sono io quindi mi preparo bellissimo perché il cuscino è bellissimo questa l'idea l'idea appena Stefano ha detto mentre vedevo la puntata appena Stefano ha detto eh ma forse ti regaliamo il cuscino io ho detto ma togli il forse bellissimo 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 tra l'altro a via real l'ha fatto anche meglio di quanto non abbia fatto infatti ho preferito quello perché così dico effettivamente sul suo divano ci può stare me la porto via e vi ringrazio tanto e lo buttate sotto no dell'ospitalità e del e anche del del pensiero delle domande cioè c'è c'è fantasia c'è c'è passione non poteva che essere diversamente perché comunque sempre dalla piana di sotto sei riuscito grazie ragazzi grazie a tutti grazie a te bravo Riccardo ragazzi è finita la prima parte di Salun del Calcio restate sintetizzati ce ne sarà una seconda sicuramente grazie a tutti